Ciao a tutti e ben ritrovati ancora nel mio studio, ancora per parlare del metodo più veloce per imparare a dipingere con l'acquerello, senza perdere tempo o con tecniche inutili. Metodo più veloce non tanto nell'esecuzione, quanto proprio per l'apprendimento. Perché quando ci si avvicina all'acquerello, e io che ho fatto un percorso da autodidatta ve lo posso dire come esperienza che ho fatto in prima persona, si tende a cercare di imparare tante tecniche diverse e a volte non ci si concentra sulle basi e si perde davvero tanto tempo. Quello che vi propongo è proprio un metodo che parte dalle basi, separando i diversi passaggi necessari a fare una pittura realistica, credibile, che sia valida, così da limitare gli errori e le difficoltà, circoscrivendoli a passaggi precisi che possiamo risolvere uno alla volta. Naturalmente sto parlando del metodo classico dell'acquerello, che è quello che ho studiato quando ho iniziato a dipingere, in realtà dopo qualche anno che già stavo dipingendo. I primi anni appunto li ho persi, cercando di capire 10.000 tecniche diverse che non mi sono servite a nulla. E lo faremo partendo da tre tazzine. Queste tre tazzine le ho posizionate su un piano, ho messo dietro un foglio di cartone e ho scattato tantissime fotografie, fino a quando non ho trovato una composizione interessante. Questa composizione l'ho realizzata per una lezione che trovate su Patreon in versione integrale, quindi senza tagli, spiegata in tutti i passaggi. Veloci, velocissimamente, per chi non lo sapesse Patreon è la mia scuola online di disegno e pittura, in cui cerco di condividere tutto quello che so, tutto quello che ho imparato in questi anni di attività pittorica. Ci sono lezioni di disegno, di carboncino, di acquerello, qualcosa di tempera, di composizione, un po' di teoria, parliamo ogni tanto di artisti che vale la pena conoscere, ecco, c'è un po' di tutto. Ormai ci sono più di 400 ore di lezioni. Ed è sicuramente il posto migliore per trovare un percorso che sia strutturato e organizzato, un posto in cui poi potete condividere la vostra passione, oltre che con me, con tantissimi altri appassionati che seguono queste lezioni, e soprattutto un posto in cui poter crescere dal punto di vista artistico e pittorico, della tecnica pittorica. Prima di partire ci tengo a sottolineare una cosa abbastanza importante. Quando parlo di tecniche inutili non sto dicendo che tutti gli altri modi di dipingere non sono validi, non sono interessanti e non hanno una loro valenza artistica, anzi, c'è davvero tanto, trovate davvero tanti modi, tanti approcci, ed è interessante anche vedere altri modi di dipingere. Però quando si sta imparando le basi sono fondamentali per partire col piede giusto, altrimenti davvero si perde tempo. E magari una volta che l'avrete imparata la metterete da parte per poi trovare la vostra strada, ma lo farete con una struttura, con un metodo, che vi permetterà davvero di sperimentare e divertirvi, senza eccessive frustrazioni e battute d'arresto, che a volte sono davvero un limite grosso per chi sta imparando a dipingere, soprattutto da querello. E a proposito di percorsi artistici, ultimissima cosa prima di partire, ma di questo sono davvero troppo contento e quindi lo voglio condividere con voi, ho appena pubblicato un artbook che raccoglie le mie opere, i miei dipinti, più o meno dal 2008 a oggi. 80 lavori selezionati che ho realizzato in questi anni di attività. E quindi potrete vedere in questo libro i primissimi dipinti eseguiti appunto con una tecnica, non con questa tecnica, e quindi magari anche con le prime incertezze, a cui però sono tanto affezionato, proprio perché caratterizzano e rappresentano l'inizio di un percorso che mi ha portato poi a dipingere come dipingo oggi, che mi ha permesso di trasformare questa passione in un vero lavoro. Se vi fa piacere trovate il link qua sotto al libro, che sarà disponibile a partire dall'11 di dicembre, quindi è possibile preordinarlo. Adesso è in tipografia, lo stanno stampando, e dovrebbe arrivarmi più o meno l'11 di dicembre. Quindi se vi può far piacere averlo, vi lascio il link qua sotto, dove potete andare a vedere un po' tutti i dettagli. Ma adesso veniamo a noi, iniziamo il nostro lavoro, e per farlo vi occorre una matita, va bene una F o una HB, quindi una matita media. Vi serve poi un foglio d'acquerello, 100% cotone, grana fine sarebbe l'ideale, i vostri colori, un pennello o due pennelli, uno un po' più grande, uno un po' più piccolo, scotex, barattoli, e poi anche uno spruzzino che useremo alla fine, come vedrete. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon divertimento e una buona pittura. Il primo passaggio, spesso quello più trascurato, in realtà se stiamo parlando di figurativo, di realismo, è uno dei più importanti, e cioè la fase di costruzione dell'immagine. Ecco, questo è il momento in cui se sbagliamo, poi alla fine ci ritroviamo un'immagine sproporzionata e non corretta, che a volte non funziona proprio. In questa fase si lavora con una matita spesso non temperata, non troppo temperata, o temperata è uguale, però l'importante è che il disegno sia così come lo vedete, un po' sporco. L'obiettivo adesso è quello proprio di strutturare anche creando delle linee sbagliate che poi man mano che andiamo avanti correggiamo e aggiustiamo. Il disegno di costruzione, cioè quello che stiamo facendo adesso, serve proprio a questo, a sbagliare prima e a correggere, prima di passare al disegno definitivo. E proprio in previsione delle cancellature che faremo non dobbiamo calcare troppo, quindi il motivo per cui il disegno è sporco, polveroso, è proprio questo, che diventa facile da alleggerire e da cancellare, da correggere, anche lavorando semplicemente con la gomma pane, che come sappiamo non cancella mai completamente l'immagine, ma lascia sempre un po' di traccia sotto. In questa fase dovete cercare di dare ai tre elementi la corretta posizione nello spazio e la corretta proporzione tra un elemento e l'altro. Una volta che il disegno ci convince, che quindi risulta proporzionato, diamo alla gomma pane una forma da matarello e la passiamo su tutto il disegno, alleggerendolo al massimo. Quello che abbiamo fatto fino a questo punto sarà una traccia sulla quale poi interverremo con la matita, questa volta temperata e affilata. Io la consumo qui nella carta abrasiva, visto che utilizzo in genere per disegnare la matita a punta di lancia, cioè quella che avete visto utilizzare fino a questo punto. Adesso con la matita ben temperata, ben affilata, facciamo un disegno pulito, preciso e che a questo punto riporta anche i dettagli in maniera più definita. Adesso la linea è unica, continua e estremamente pulita. Questo perché poi ci servirà il riferimento preciso per fare delle velature precise. Se lasciamo una linea imprecisa poi sarà difficile essere precisi con l'acquerello. Siccome l'acquerello è una tecnica che non ammette correzioni, quindi se sbagliamo rimane sul foglio, il modo migliore per limitare al massimo gli errori è proprio quello di definire il più possibile il disegno e crearsi sul foglio tutti i riferimenti che possano aiutarci quando poi dipingiamo. In questa fase, oltre ai dettagli veri e propri del soggetto, includo anche delle linee che dividano luce e ombra, quindi per esempio i riflessi bianchi più chiari o le zone d'ombra, le segno adesso con la matita, appunto quello che dicevamo prima. Più riferimenti abbiamo, meglio è. Dopodiché vado in tavolozza e preparo il bistro. Lo potete ottenere utilizzando del nero avorio o più semplicemente miscelando un marrone e un blu, se non avete il nero avorio già pronto. E interveniamo su tutte le ombre. Quindi a prescindere dal colore della parte su cui stiamo intervenendo, usiamo il grigio per tracciare le ombre. Un po' come si fa col tratteggio quando stiamo disegnando. Quindi a prescindere che la tazzina sia gialla, come in questo caso, o rossa, segniamo tutte le ombre con questa prima velatura abbastanza leggera che oltretutto sfumiamo con acqua nelle parti in cui l'ombra va a degradare verso le zone più chiare. Facciamo asciugare completamente, poi torniamo in tavolozza, prendiamo dell'altro bistro e diamo una seconda velatura nelle parti più scure. Quindi potete usare lo stesso identico colore di prima, ma di fatto stiamo raddoppiando la quantità di pigmento, visto che il passaggio è doppio. E a questo punto avremo delle zone più scure e delle zone più chiare. Questo passaggio serve proprio per differenziare le parti più in ombra da quelle leggermente più chiare. Una volta che asciuga, anche questa seconda velatura di bistro, torniamo in tavolozza e prepariamo i colori delle tazzine. Ho preparato un po' di verde che stendo sul foglio e se vedo che è troppo scuro aggiungo dell'acqua direttamente sul foglio col pennello per diluirlo ulteriormente. Questa prima velatura deve essere molto chiara e deve coprire tutto, sia la parte luminosa che la parte in ombra. Lo stesso identico lavoro lo facciamo poi sia per la tazzina gialla che per quella rossa. Quando fate questo lavoro, mi raccomando, cercate di lasciare fuori i riflessi bianchi. Anche se sono molto piccoli, provate a evitarli. Vi sconsiglio l'utilizzo del liquido di mascheratura. In parte perché le zone sono molto piccole e in parte perché poi si vede che l'avete usato e in genere non fa un bel effetto. Almeno questo è un gusto, un giudizio mio personale. È vero che lavorando così è un po' più difficile perché bisogna stare più attenti, avere un po' più di padronanza. Però è così che si impara, complicandosi la vita. Quindi applichiamo adesso lo stesso principio anche al rosso. Come avete visto, l'immagine di riferimento del soggetto scompare e riappare in base all'inquadratura. Io per seguire al meglio questa lezione di acquerello vi consiglio di scaricarlo. Come vi anticipavo lo potete scaricare iscrivendovi alla mia newsletter e venite subito rimandati in una pagina in cui ci sono tutti i soggetti dei miei tutorial ma anche appunto questo nello specifico che ricevete subito. Una volta comunque fatte le prime tre velature di colore passiamo alla seconda velatura di colore. In questa fase torniamo al verde, quindi la tazzina più in alto, e copriamo tutte le parti che sono un po' più scure. Quindi lasciamo fuori il verde più chiaro o il giallo più chiaro in questo caso e copriamo tutto ciò che è in ombra o in penombra. Quindi lavoriamo anche sui mezzi toni. Lo facciamo come vedete con il serbatoio del pennello abbastanza carico. Fate caso alla quantità di acqua che sto usando. Ce n'è un po'. Non è tantissima ma non è neanche poca. L'ideale è, visto che la superficie è piccola, caricare il pennello una sola volta e poi se serve sfumare o a secco o con acqua come sto facendo nelle zone di passaggio tra le parti più scure e le parti più chiare. Una volta che asciuga anche questa velatura passiamo alla terza velatura di colore e il principio è sempre quello. Quindi interveniamo di nuovo nelle parti che vediamo un po' più scure e lasciamo fuori tutte le parti leggermente più chiare. Questo logicamente dipende da quanto avete intensificato prima. Quindi se prima avete caricato un po' di più il giallo magari non avete bisogno della terza velatura. Però il consiglio che vi do sempre è di partire da colori molto molto leggeri anche più leggeri rispetto all'immagine e poi al massimo di fare qualche velatura in più per intensificarli. Sarebbe peggio il contrario. Se per esempio partite da un rosso troppo intenso o da un giallo troppo intenso è difficile poi alleggerirli con l'acquarello proprio perché appunto è una tecnica che non ammette molte correzioni. Quindi per essere sicuri partite da velature tanto chiare e poi al massimo fate un passaggio in più. Non succede nulla. Comunque finita questa fase di colore ci concentriamo su un altro colore che è il nero cioè il bordo delle tazzine che modifico partendo dal nero avorio e aggiungendo un po' di grigio di paint per raffreddare. Fateci caso. Sto parlando di nero adesso non di bistro. Il colore in realtà è identico a quello del bistro però si chiama nero e non bistro perché parliamo di colore. Quindi ve lo ripeto ne abbiamo parlato già nell'altro esercizio e in tanti altri esercizi però la differenza sta qua. Quando parlo di bistro sto parlando di ombre quando parlo invece di nero sto parlando di colore anche se poi di fatto quello che usiamo è lo stesso. Anche qui facciamo asciugare e poi diamo una seconda velatura di un colore un po' più denso e la possiamo gestire leggermente a secco come ho fatto io se vogliamo rendere un effetto di sfumatura. Tutti questi particolari di lavoro a secco lavoro sfumato sfumatura con acqua senza acqua eccetera li trovate in tanti altri video qua su youtube ce n'è davvero tanti ma soprattutto poi appunto come vi anticipavo all'interno della mia scuola online su Patreon ci sono proprio delle lezioni dedicate proprio alla gestione del pennello dell'acqua ad aspetti estremamente tecnici. una cosa che vi consiglio comunque è quella di fare anche degli esercizi liberi cioè senza soggetto magari prendete un ritaglio di foglio e fate un po' di prove di sfumatura e vedere come vi escono per fare un po' di pratica. Finito questo passaggio di nuovo si torna sugli altri colori per riequilibrarli. Ecco come state vedendo di fatto stiamo parlando di un continuo lavoro di equilibrio quindi faccio una parte la definisco un po' di più una volta che ho definito quella parte mi accorgo che è necessario ritornare su un'altra e di nuovo la ribilancio è proprio qua il metodo è proprio questo il punto questi sono i passaggi che andrebbero fatti per fare un buon dipinto a prescindere che sia un ritratto una natura morta o un paesaggio è chiaro che con l'esperienza dopo che avete fatto magari 10-20 esercizi tipo questo conoscete un po' la tecnica e il metodo e a quel punto vi diventerà molto più semplice immediato naturale anche saltare delle fasi però un conto è saltare queste fasi quando le si conosce un conto è improvvisare qui stesso discorso rafforziamo di nuovo il verde magari lo misceliamo con un po' di bistro quindi abbiamo un bistro verde potremmo dire o un verde sporco di bistro e cominciamo a concentrarci maggiormente sulle parti più scure questo è proprio uno dei principi dell'acquarello si parte dalle parti più chiare poi si fa su quelle più scure ecco qua vedete come per esempio sto sporcando il bistro col giallo per fare le ombre della tazzina gialla questo lavoro così separato in tante fasi è quello che vi permette di capire la tecnica di fare vostro il metodo poi in futuro magari userete altre tecniche però questo vi permette di capire come funziona l'acquarello quindi come funziona la velatura come funziona la trasparenza come funzionano le ombre è da qui che si parte per forza di cose per imparare a dipingere ad acquarello partendo perfino come vi dicevo dal disegno di costruzione che come avete visto è un tipo di lavoro comune a ogni tipo di pittura anche chi fa olio e lavora nel figurativo fa la costruzione del disegno come l'abbiamo vista noi ecco tutti questi punti vanno seguiti almeno all'inizio se si vuole imparare bene tutte le altre tecniche che trovate proposte su youtube ma in tantissime altre piattaforme non è che non siano valide però sono a mio avviso successive cioè prima servono le basi è un po' come se uno volesse imparare a fare a suonare la chitarra per esempio e volesse subito fare una solo rock di chitarra non so di chitarra elettrica è chiaro che se prima non impariamo a fare gli accordi viene un po' difficile un po' come se volessimo cucinare e partiamo subito da un piatto estremamente elaborato invece che saper fare la pasta asciutta è lo stesso discorso ora cominciamo a lavorare sullo sfondo prendo uno spruzzino copro con la mano il soggetto che non voglio che si macchi e bagno la parte a destra dove c'è l'ombra portata sulla parete che poi in realtà è un pezzo di cartone che ho usato come sfondo per fare la foto poi in tavolozza preparo ho preparato prima come anticipo un po' di bistro abbastanza diluito e stendo la velatura un po' come se stessi lavorando bagnato su asciutto ma in realtà il foglio è umido quindi avremo un effetto molto particolare come vedrete diamo quindi tutta l'ombra portata alla parte destra a destra delle tazzine se vi accorgete che l'ombra è troppo chiara magari in certe zone la volete scurire un po' di più potete ritornare sui mezzi godè quindi prendere un colore quasi puro diciamo e intervenire sul foglio umido questo vi darà una bella profondità di ombre e questo è un passaggio che tecnicamente è chiamato bagnato su bagnato perché è una velatura che viene data sulla superficie del foglio già bagnata in precedenza nello stesso passaggio e approfittando di questo colore scuro che ho già preparato intervengo anche sulle zone più scure del soggetto vero e proprio quindi delle tazzine e naturalmente mi concentro sui piccoli dettagli sui particolari di queste tazzine per iniziare a tirarli fuori qualche piccola sbavatura ci sarà sempre come nel manico della tazzina rossa però non è una di quelle cose che mi disturba mi dà fastidio fatto questo poi facciamo asciugare di nuovo completamente controlliamo che sia veramente asciutto e di nuovo inumidiamo con lo spruzzino questa volta per fare il colore dello sfondo anche qui il principio è lo stesso facciamo prima le ombre e poi il colore mi concentro sul piano delle tazzine che è un po' in vento come colore quindi questo colore marrone aranciato che stendo in maniera abbastanza omogenea come vedete col pennello bello carico per lo sfondo invece ho preparato questo turchese questo non so blu petrolio blu verde molto chiaro perché a mio avviso ci stava bene su questo soggetto e lo stendo sullo sfondo continuando a bagnare con lo spruzzino se voglio degli effetti un po' particolari magari con delle pennellate disordinate a sinistra in tutto questo poi naturalmente se serve ritorno per intensificare gli scuri e a questo punto possiamo considerare finito il nostro dipinto avete visto un soggetto se vogliamo banale tutti noi abbiamo delle tazzine in casa l'ideale sarebbe posizionarle lì e copiarle dal vero sarebbe la cosa migliore con questa tecnica proprio quindi facendo il disegno costruendo il disegno poi il bistro poi il colore eccetera eccetera però anche lavorando da fotografia si può davvero imparare tanto quindi vi direi di partire da qua fare tanti esercizi con questa tecnica provando ad applicarla a soggetti diversi a foto scatate da voi o appunto lavorando dal vero e nel momento in cui avrete capito e fatto vostri tutti questi passaggi a quel punto potrete divertirvi per sperimentare tecniche nuove strade nuove e nuovi percorsi se vi è piaciuto questo video l'invito è sempre quello di iscrivervi al canale di attivare la campanellina così quando escono i prossimi video rimanete aggiornati vi arriva subito la notifica oppure di iscrivervi alla newsletter così ricevete l'email con il soggetto della lezione che uscirà e il link per vedere i nuovi video che pubblicherò infine se vi fa piacere sapere dove sono arrivato col mio percorso artistico potete trovarmi anche su instagram e su facebook di tutto naturalmente vi metto il link qua sotto e sarà l'occasione magari per vedere una tecnica diversa io stesso oggi non dipingo più con la tecnica del bistro a volte la uso a volte no ho sviluppato una mia tecnica personale che però è partita da qua e se vi fa piacere infine potete anche unirvi a patreon che vi dà la possibilità anche di iscrivervi gratuitamente per vedere i contenuti che pubblico sulla mia scuola online di disegno e pittura e a questo punto finite le comunicazioni di servizio finito il nostro esercizio non mi resta che augurarvi un buon fine settimana una buona pittura e soprattutto buon divertimento ciao ciao a tutti